Palle, eravamo d'accordo, no? Sì, sì, ok Sei in riunione con chi? Bruno chi? Il marito di Eric 40 a 0 Spiacente, non L'accetterei, solo in coppia con te È un complimento al mio gioco Sì, così non vinceremo neanche un game Scemo, a proposito di coppie, come mai Erica non è venuta?